piloti e gentiluomini piloti professionisti dell'alpa corse e gentleman driver del club italia tutti insieme alla seconda edizione della pro am ricordando le battaglie dello scorso anno ricordo c'era ghini tutti i vedi del rally e la cosa era divertente però lì si sono distrutte un po di macchine perché si sono applicate tutte le sospensioni quindi quest'anno mi ha detto no non facciamo più questa sfida e facciamo solo le gta ha parlato con la linea detto che forse non sgonfierà le gomme come ha fatto altre volte altri scherzettini che prepara e finché lo fai su una vettura di serie le gomme la guidi anche sui cerchi ma queste macchine qui ti riviera un po di pressione dalla gomma sola diventa diventa un pericoloso quindi non credo che abbia l'intenzione di fare scherzi del genere anche perché se me lo fa lui lo faccio anche io vedrai che larini nannini e francia con le loro gta non si sono certo risparmiati in questa sfida con una formula di gara ripresa dal golf che prevede l'abbinamento in classifica squadre fra amatori e professionisti auto d'epoca e moderne sì perché questi piloti avranno pure altri hobby ma quando si tratta di motori mi diverto a giocare a tennis mi diverto ad andare a pescare mi diverto con gli radiocomandi mi diverto un po con diciamo proprio con hobby o sportivi o e no però insomma anche se siamo professionisti però è il nostro hobby cioè io mi diverto quando vi do la macchina però per esempio durante l'inverno a me stesso per dire nevica è la volta che prendo la macchina le notte dalle sue neve mi diverto figurarsi allora l'entusiasmo dei gentleman driver insospettabili manager e professionisti date loro i volanti di stupende auto prove di slalom e regolarità sulla pista alfa di balocco e la trasformazione garantita potere di tuta casco e tanta voglia di motori partecipare è importante vincere non è importante si vince ma insomma se viene ma non è sicuramente importante per me ci sono i professionisti qui piloti tanto di cappello occasione per consigli beh occasione per fare esperienza per vedere che cosa fanno e comunque per imparare qualche cosa sta musica che sentiamo che ci fa da sottofondo da sempre i brividi ma sì poi le dirò che adesso anche una musica un po in sordini quando ci ha fatto mettere i silenziatori prima era ancora più era ancora più eccitante chiamiamolo così e quando a cantare sono auto così diventa un vero concerto vetture stupende datate dagli anni cinquanta agli anni ottanta dalle lancia aurelia alle delta s4 e per tutte vale una parola sola arte è un'opera d'arte sotto certi punti di vista perché riassume un po tutto riassume riassume le forme riassume i colori riassume i suoni a volte riassume anche gli odori che sono molto particolari e l'automobile ha un senso non quando è statica ma quando si muove le macchine bisognerebbe prenderle alla sera andare a correre su qualche stradina metterle via bisognerebbe sicuramente farle vivere perché una macchina non usata è come un cavallo che sta fermo in stalla senz'altro le macchine d'epoca non devono rimanere in un garage in un museo ferme questo sono d'accordo anch'io e come dico sono qua volentieri io non come gli per me gli eccessi in queste situazioni sono sempre deleteri e purtroppo noi vediamo specialmente all'estero delle gare di velocità di vetture d'epoca che poi se andiamo a vedere bene il 50 per cento sono delle rep compliche è la proam la formula giusta tutte autodoc come la gloriosa fiat 131 abart e da chi ne ha vissuto la storia è inevitabile che scattino i consigli sulla scelta delle gomme però la 131 la reputo un po' parte di me stesso è una vettura a cui ho dato molto e che mi ha dato anche molte soddisfazioni quindi quando ho visto le d3 ho detto ma non sono un po' dure ma ho detto ma sai è difficile trovarle per questa vettura e capisco anche questi problemi è il tempo passa e il presente si chiama alfa gta passerella meritata alla proam per il vero trionfo alla prima stagione nel prestigioso turismo tedesco nicola larini campione dtm 1993 e promozione a pieni voti per tutta la squadra alfa romeo o quasi per alessandro nannini giudizio finale da parte dei meccanici con qualche piccola riserva e come intervistatore se l'è proprio cercata lui mi sei impegnato e ci ha fatto tanto piacere a tutti noi siamo stati bravi per intervistatore ciao grazie ciao ma cerca di impegnarti di giù però l'anno prossimo si fa diversamente